L'equipaggio Umerese in direzione Cino Romagnano al Monte Siamo carichissimi Qua Alberto saluta, sta guidando Francesco e Gennaro E anche io Scrivendo sono io Scrivendo sono io Sono l'equilibrio precario Va bene che ci avviiamo Scrivendo sono io Io e Linda siamo scrivendo Ciao Scrivendo su Grazie a tutti No no Ma che ti sembra questo prima uscito coscrivendo? Ciao Sì Ormai Con la luce Sì Perché è rivolto verso la scelta di poza Quindi ci sono Buongiorno Buongiorno Il titolo Scelta Il titolo Sì Il titolo L'ipido L'ipido Che Il titolo La faccia Adesso dovrà presto qualche anno. Sono soddisfatto. no 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti!